dunque mi avevano detto che con l'acido citrico si poteva pulire bene la padella di ferro e ho voluto fare una prova ho preparato una soluzione al 15 per cento quindi 150 grammi di acido citrico in un litro d'acqua e ce l'ho lasciata dentro 4 5 ore o meglio ho preso la soluzione l'ho messa dentro una padella fino all'orlo e l'ho lasciata così dopo aver fatto questo lavoro vi ricordo anzi vi dico che la padella era tutta nera è completamente nera come la vedete nella parte alta dei bordi me la sono ritrovata come la vedete invece nella parte bassa sul fondo e i primi due centimetri di di padella completamente scrostata c'è una leggera differenza di colore nella zona del bordo tra la parte bassa la parte alta è data dal fatto che nella parte bassa ho ripetuto l'operazione per ancora due tre ore per vedere quale sarebbe stato l'effetto finale poi ho passato dopo averla asciugata bene ho passato il sale per disidratarla al massimo ecco forse questa cosa era meglio non farla perché perché me la sono trovata leggermente ossidata come se non l'avessi pulita bene prima di asciugata bene prima di passare sale probabilmente qualcosa di mostro non lo so fatto sta che mi piaceva di più prima e alla prima occasione ripeterò nuovamente l'esperimento cioè non passerò il sale e non farò tra l'altro la seconda la seconda passata di acido citrico perché vedete che proprio ci sono due zone diverse di riduzione proprio perché l'acido citrico lavorato in due modi diversi poi se toccate col dito in realtà la superficie assolutamente liscia la parte nera la parte nera che vedete invece nelle zone alte ecco quella lì è la parte di patina un po più coriacea cioè lì anche sotto le dita si sente che c'è un po di spessore si sentiva anche prima cioè lì temo che l'unica cosa per rimuovere sia intervenire in modo meccanico cioè con una paglietta metallica strong andarci dentro di brutto e tirarla via se la volete tirar via a me onestamente non dava nessun fastidio perché è un effetto puramente estetico così non c'avevo voglia di stare a perdere quel tempo così l'ho lasciata poi naturalmente ho passato olio ecco una cosa che va detto rispetto a quello che è nella realtà qui nel video la vedete leggermente più più scura questo parla del solito problema di colori di filtri eccetera eccetera nella realtà è un po più argente un po più più lucida inoltre l'olio di camelia tende a un leggerissimo escurimento del delle superfici d'altro canto io preferisco passarcelo perché naturalmente la voglio tenere in con in buone condizioni che non si ossida e che non si ossidi e l'olio di camelia sotto questo aspetto perfetto soprattutto se voi pensate di non usarla per un per un bel po se invece la usate tutti i giorni basta normale olio di girasole come ho già detto più volte va bene insomma operazione è andata a buon fine a questo punto vi saluto e buon divertimento ciao